Diamo ora la parola all'onorevole Stefano. Sì, grazie Presidente per la parola. Inizio io oggi i tre interventi del gruppo Capitolino M5S. Sicuramente ci aspettavamo una partecipazione un po' più ampia, ma comunque confidiamo nei cittadini che ci seguono via radio e da pochi mesi anche via streaming. Io vorrei iniziare il mio intervento dall'episodio, da quanto è avvenuto ieri sulla linea A, perché io per mia fortuna, barra sfortuna, sono un utente quasi quotidiano dei mezzi pubblici, quasi quotidiano della linea A, per un motivo molto semplice, perché penso che un amministratore pubblico debba dare il buon esempio e debba essere sempre in prima linea per capire quali sono i problemi della città e quali sono le difficoltà che i cittadini vivono e in questo ci piacerebbe che anche il resto degli amministratori di Roma Capitale facessero lo stesso. Ma non penso al momento sia avvenuto, dato che abbiamo cercato anche insieme ad altri gruppi di fare una lotta per abolire le auto di servizio per i consiglieri capitolini, ma ci sembra anche questo piccolo segnale molto in alto mare, quindi poi capisco che magari non tutti possano comprendere i problemi dei mezzi pubblici di Roma. Comunque ieri è avvenuta una tragica fatalità, perché c'è stato un incidente prima della stazione Flaminio, quindi insomma adesso non diamo sempre tutte le colpe ad Atac, anche se magari poi le responsabilità sicuramente verranno accertate, ma è stato un po' dal mio punto di vista il sintomo di come questa città vive al limite. Una città che vive al limite perché per 20, per 30 anni non è stata minimamente governata, non è stata governata in maniera efficiente, in maniera diciamo così guidata dal senso del buon padre di famiglia, non sono state ascoltate le esigenze dei cittadini, perché in passato sicuramente c'erano molti più soldi di quelli che ci sono adesso e quindi all'epoca era difficile sentirsi dire il mantra ah ma non ci sono i soldi e quindi qualsiasi richiesta anche molto valida di cittadini, di comitati, di associazioni viene sistematicamente cassata con la scusa che non ci sono i soldi, ma poi entreremo anche nel dettaglio di questo perché poi in realtà i soldi ci sono ma non si vogliono andare a prendere. Insomma tutto questo per dire che non so per chi l'ha vissuto, io l'ho vissuto in prima persona, infatti sono arrivato qui in Campidoglio da San Giovanni a piedi, ero anche molto sudato, quindi tra l'altro molte persone mi hanno anche fatto questa osservazione perché ero letteralmente bagnato, perché a piedi da San Giovanni al Campidoglio a luglio insomma non è proprio una passeggiata e questo appunto io sceso dalla metro bloccato a San Giovanni e c'erano delle scene quasi da film americano da Godzilla diciamo tra virgolette, ovviamente cittadini che non sapevano cosa fare perché quei pochi bus sostitutivi chiaramente non potevano assorbire il flusso di una metropolitana, di convogli che possono portare anche mille passeggeri per ogni convoglio e quindi non c'erano taxi, gli autobus sostituiti non funzionavano, informazioni sicuramente molto scarse e quindi alla fine la soluzione migliore è stata quella del caro e buon vecchio camminare. Vediamo anche in questo caso come carenze, come l'assenza di un bike sharing che in situazioni del genere può sicuramente compensare, ovviamente il bike sharing non si può sostituire né alla metropolitana né negli autobus, ma sicuramente può dare un valido supporto, abbiamo visto come anche l'assenza di qualcosa che è la normalità in qualsiasi altra capitale europea, anche nelle altre città italiane, pensiamo a Milano, a Torino, a Roma non si riesce a fare neanche un bike sharing senza considerare il fatto che il bike sharing per fortuna, e vengo a quanto dicevo poc'anzi sulla scusa del non ci sono i soldi, il bike sharing da che mondo è mondo viene finanziato attraverso la pubblicità e quindi sarebbe una risorsa fondamentale a costo zero per l'amministrazione che però a Roma sono 5-6 anni che non si riesce a mettere in atto. E quindi appunto dicevo di come una città che vive al limite, i cittadini vivono al limite perché sono vessati dalla pressione fiscale più alta d'Europa se non del mondo a fronte di servizi che dire inesistenti è dire poco, i cittadini sono letteralmente abbandonati a se stessi. Io appunto vorrei riportare all'aula i cittadini che ci ascoltano il mio stato d'animo ma penso sia stato quello di tantissime altre persone che per un guasto della metropolitana ma succede quotidianamente, succede molto frequentemente sulla linea B perché io addirittura mi devo anche sentire un privilegiato a prendere la linea A perché so che c'è chi sta peggio di me che sono gli utenti della linea B o non ne parliamo proprio della Roma Lido. E quindi il disagio di non riuscire ad arrivare sul posto di lavoro, un qualcosa che è di una, diciamo così, mina anche ai diritti fondamentali della persona perché il diritto alla mobilità è un diritto che è tutelato anche dalla nostra Costituzione perché tutti i cittadini devono essere liberi di circolare per il territorio della Repubblica ma quando manca questa possibilità perché il trasporto pubblico è inesistente le strade sono ovviamente invase dalle automobili allora lì vediamo come questa città è una città che vive al limite è una città che non è vivibile. Stessa cosa si potrebbe fare ad esempio per il discorso rifiuti perché bastano 10 sacchetti in più o basta il periodo natalizio per vedere la città invasa, letteralmente invasa dai rifiuti e questo ovviamente scopre e mette in luce tutte le mancanze, tutte le inefficienze, tutta l'ineguatezza della politica degli ultimi anni perché una volta negli anni passati fino a ben oltre la metà degli anni 2000 i soldi c'erano ma sono stati spesi non male, malissimo. Io faccio ad esempio un esempio che faccio da quando mi interesso dei problemi della mia città dall'adolescenza quasi, che è la città dello sport ebbene a cavallo degli anni 2000 l'amministrazione Veltroni, quindi non l'amministrazione Alemanno sulla quale sono state scagliate tutte le possibili accuse ma l'amministrazione Veltroni, ricordiamola, quindi di centro-sinistra un'amministrazione che dovrebbe essere vicina alle esigenze della città, ai problemi ebbene l'amministrazione Veltroni decise di spendere, ci sono le delibere dell'allora consiglio comunale in un'assemblea capitolina oltre 200 milioni di euro, per l'esattezza 205 milioni di euro per costruire una cattedrale nel deserto, per costruire una mega piscina sulla possibilità forse di ospitare i mondiali di nuoto quando magari già si poteva intuire che non si sarebbe fatto in tempo visto che i lavori iniziarono nel 2005-2006 comunque fatto sta che per un'opera discutibile anche dal punto di vista architettonico perché copre letteralmente la vista dei castelli romani per una mega opera che non ha portato alcun beneficio alla città alcun beneficio alla città, ripeto, anzi ha portato più danni che altro sono stati spesi 205 milioni di euro pensiamo solamente un attimo, vi invito colleghi a farlo vi invito i cittadini che ci ascoltano a farlo a quante belle cose avremmo potuto fare solamente con i soldi che sono stati sprecati per la città dello sport e purtroppo la capitale d'Italia ha tante altre città dello sport che potremmo raccontare adesso se ne avrò tempo lo farò ben volentieri con 205 milioni di euro si potrebbero costruire circa 12-13 km di rete tramviaria quindi pensiamo a quanti cittadini sarebbe potuta cambiare la vita con una linea tramviaria ad esempio tangenziale da Saxarubra a Laurentina che avrebbe letteralmente cambiato il volto della città perché io lo voglio ricordare ancora una volta che poi non è così difficile arrivare in centro perché in centro con i mezzi bene o male anche se tra mille difficoltà ci si arriva ma la più grande difficoltà e il motivo per cui la nostra città è intasata dal traffico, dalle macchine, dalle automobili sono gli spostamenti tangenziali io abito nella periferia est nel caso decidessi di andare all'euro con i mezzi pubblici dovrei arrivare a termini e tornare indietro che è pura e semplice follia quindi ripeto ad esempio questa cifra si sarebbe potuta investire nel trasporto pubblico e ho utilizzato la parola investire non a caso perché in questo modo investendo nel trasporto pubblico i cittadini sono incentivati magari a lasciare l'automobile a casa e se i cittadini lasciano l'automobile a casa la qualità dell'aria, la qualità della vita è migliore e se la qualità dell'aria è migliore la qualità della vita è migliore magari chi si rega nel posto di lavoro ci arriva meno stressato e quindi rende e produce anche di più e quindi accatena quanti effetti positivi ci sarebbero potuti stare ma allora il sindaco Veltroni decise invece di dedicare questa somma importantissima perché io poi sono andato a leggermi le delibere e per fare proprio il collegamento con il trasporto all'epoca venne definanziato il prolungamento della metro B per finanziare la città dello sport quindi il messaggio fu chiaro io tolgo i soldi al trasporto pubblico e li regalo per l'ennesima speculazione per l'ennesima impresa grande, grandissima impresa che andrà a fare un qualcosa che non servirà a nessuno ma servirà solo a qualcuno a pochi, a pochissimi ad intascare ingentissime cifre di denaro e quindi appunto come dicevo in tutto questo è una città e torno, mi riavvicino al presente una città di Roma che è abbandonata a se stessa che sta crollando io una volta era la fine della primavera verso aprile e maggio assorto in questi pensieri dopo l'ennesima seduta di Assemblea Capitolina dove in sostanza si parlò di poco o nulla diciamo nella mia disperazione insieme anche ai miei colleghi del gruppo che ci siamo ritrovati in un certo senso un pochino desolati un pochino disperati perché in un anno l'attività è andata a rilento allora ho fatto una bella cosa sono andato sul sio di Roma Capitale alla sezione di liberazione ed atti e invito anche qui i cittadini a farlo quasi quotidianamente mi sono scaricato tutte le delibere di Assemblea Capitolina che erano state votate dal primo luglio 2013 a circa fine aprile 2014 ebbene lo sconforto lo sconforto è cresciuto ulteriormente perché mi sono andato a fare una piccola analisi statistica e scoprì che circa il 25 se non 30% delle delibere approvate fino a quel momento erano delibere diciamo così di mera prassi amministrativa nomina del sindaco nomina degli assessori nomina dei presidenti delle commissioni permanenti istituzioni di nuove commissioni di nuove commissioni speciali dopodiché c'era un'altra buona fetta di delibere che erano il riconoscimento di debiti fuori bilancio problema questo che ha sollevato anche l'Oref perché ricordiamo la città di Roma ha circa 200 milioni di euro di debiti fuori bilancio insomma una cifra una cifra da far drizzare da far drizzare i capelli un po' a tutti e appunto dicevo come andando a vedere le delibere votate poi c'era un'altra parte di delibere che erano degli atti che diciamo così non apportavano un grande cambiamento alla città di Roma come ad esempio istituzioni di vie piazze cittadinanze onorarie certamente temi che cambiano poco la vita ai cittadini romani e allora appunto lì ci siamo mi sono e ci siamo chiesti insieme agli altri consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle insieme agli altri consiglieri municipali ma cosa sta facendo questa amministrazione la città di Roma sta crollando è il Titanic già con parecchia acqua imbarcata e qui neanche si sta suonando il violino ma si sta proprio diciamo così siamo al si salvi al si salvi chi può perché in un anno si sarebbero potute fare tante tantissime cose e soprattutto lo ricordo proprio per evitare la classica scusa non c'erano i soldi tantissime cose a costo zero e questo come gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle lo abbiamo anche sottolineato più volte con decine e decine di mozioni di ordini del giorno di atti di indirizzo perché è bene sapere che il Movimento 5 Stelle che è attacciato di essere sempre il movimento dei grillini degli inesperti di coloro che non sanno bene che pesci prendere sono capitati qui per caso il gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle è stato il gruppo che con soli 4 consiglieri ha prodotto quasi il 30% degli atti di sindacato ispettivo è il gruppo che ha prodotto in più di un anno oltre 100 atti di indirizzo tra mozioni e ordini del giorno e non parlo di mozioni e ordini del giorno allegati al bilancio dove si punta molto alla quantità ma parlo anche di tutte le mozioni e ordini del giorno che abbiamo presentato via via nelle varie sedute di assemblea capitolina nel corso di quest'anno quindi diciamo ci siamo dati molto da fare a dispetto del fatto che eravamo inesperti ricordo molto bene il primo agosto del 2013 quindi eravamo stati proclamati da appena un mese portammo qui in aula un'importante mozione per l'ottimizzazione per l'ottimizzazione e l'efficienza di ATAC e adesso arriverò anche a breve al discorso sul trasporto pubblico e quindi appunto in tutto questo anche qui vorrei cercare di trasmettere a livello emotivo cosa abbiamo provato noi consiglieri che ci aspettavamo di arrivare qui io ricordo quando assistevo alle sedute di assemblea capitolina durante l'era alemanno prima poi di essere eletto ricordo quando venivo venivo tenuto fuori i cittadini non non gli veniva proibito di assistere alle sedute anche lì ci dicevano è colpa di alemanno poi abbiamo notato che anche in questa consigliatura non è che sia cambiato poi poi tantissimo devo dire e quindi appunto arrivammo noi qui il primo luglio pensando che questo fosse il luogo dove le decisioni vengono prese ma poi abbiamo visto con la vicenda multiservizio ancora prima di arrivare nel merito ma parlando solo nel metodo che quest'aula aveva prodotto un atto un atto di indirizzo importante una mozione l'assessore due ore dopo disse a me della mozione non interessa nulla allora la domanda che mi pongo e che vi pongo e che vale anche per gli altri organi istituzionali pensiamo ai consigli regionali pensiamo al Parlamento dove la potestà legislativa delle camere è ormai sottratta ed è avvocata sempre dal governo con decreti legge e decreti legislativi sono ancora questi i luoghi dove si prendono le decisioni noi certe volte restiamo un po' dubbiosi perché appunto un'amministrazione che non hanno prodotto pochissime delibere di assemblea quando invece ce n'è un bisogno importante perché la città di Roma ripeto sta affondando anzi forse è già affondata e non è più recuperabile ebbene questa domanda questa domanda sorge spontanea e quindi siamo arrivati alla conclusione della città immobile quasi un po' come faccio il paragone con il romanzo Il deserto dei tartari di Dino Buzzati per chi l'ha letto dove c'è questa caserma al confine e dove i soldati aspettano questa invasione dei tartari che però non arriva mai e il protagonista del libro il tenente Drogo alla fine si ritrova a morire e i tartari ancora non sono arrivati qui siamo in attesa noi non dell'invasione ma della distruzione totale della città di Roma anche e soprattutto dal punto di vista finanziario adesso andrò ad analizzare brevemente la situazione di Ama e di Atac e quali sono i gravi rischi dal nostro dal nostro modesto poi punto di vista di consigliari di opposizione e di consigliari appunto inesperti come come l'opinione pubblica vorrebbe far credere appunto soffermandoci sulla mobilità io ho anche avuto la fortuna di fare delle visite alle rimesse Atac nelle settimane scorse anzi ringrazio pubblicamente l'azienda per questa opportunità che mi ha fornito e che io ho chiesto proprio per il motivo che dicevo all'inizio del mio intervento un amministratore pubblico deve stare in strada deve stare nei luoghi di lavoro deve stare nei luoghi produttivi della città per capirne i problemi e poi riportarli nelle apposite sede istituzionali ebbene Atac è persa in una situazione tragica mancano quasi completamente i pezzi di ricambio e sono circa il 30% gli autobus che non possono uscire dalle rimesse perché mancano letteralmente i pezzi di ricambio quindi mancano passatemi il termine i bulloni o i pezzi i pezzi fisici perché ovviamente i fornitori visto l'enorme credito che vantano nei confronti di Atac non vogliono più fornire ricambi e in tutto questo ovviamente chi ci va a rimettere non sono chi ha governato la città di Roma e chi ha preso le scelte in Atac negli ultimi 10-20 anni e che l'ha portata allo sfacelo ma sono i lavoratori i cittadini i cittadini che ormai subiscono dei disservizi quotidiani o viaggiano in condizioni impossibili pensiamo ad esempio all'area condizionata sugli autobus e i lavoratori che addirittura come nel caso di Roma TPL che è l'azienda che gestisce circa il 20% dei chilometri di Roma Capitale azienda privata consorzio di aziende private addirittura questi lavoratori non percepiscono gli stipendi quindi agli autisti di Roma TPL viene accreditato lo stipendio quando gli dice bene con settimane e settimane di ritardo allora anche qui la mia domanda sorge spontanea e vi chiedo un attimo di attenzione quando si tratta di tagliare lo stipendio o di licenziare un dirigente ATAC perché ATAC è arrivata ad avere quasi 100 dirigenti nel corso degli anni per un costo di oltre 15 milioni di euro l'anno ebbene quando si tratta di tagliare lo stipendio a questi dirigenti ci si pongono mille problemi sul fatto se possano fare ricorsi diritti acquisiti e quant'altro invece poi ci sono i lavoratori quelli che letteralmente mandano avanti la carretta nel caso degli autisti di Roma TPL nel vero senso della parola in cui invece ci si prende la libertà tranquillamente di non accreditare lo stipendio stessa cosa che è avvenuta anche ai lavoratori ATAC perché l'ultima mensilità alcuni lavoratori ATAC l'hanno percepita il 30 del mese non il 27 quindi siamo al limite al limite e tutto questo viene scaricato sui lavoratori che sono alla base e sui cittadini che usufruiscono o dovrebbero usufruire dei servizi ancora più grave in ATAC è una disposizione che diciamo così impone agli autisti di andare in giro e di continuare ad effettuare il loro lavoro il loro servizio anche se l'autobus ha dei danni o dei malfunzionamenti quindi addirittura viene imposto agli autisti di circolare magari con una freccia rotta o con uno stop rotto o col posto di guida che ha delle temperature elevatissime o che magari dove magari anche la stessa sedia è rotta e danneggiata e quindi in condizioni gravi e questa penso sia un po' la metafora ovvero ATAC non riesce a dare all'autista un mezzo funzionante per tutta una serie di problemi che esulano ovviamente dalla responsabilità dell'autista perché l'autista deve portare l'autobus e da responsabilità che sono sicuramente imputabili ai vertici perché anche il problema della città di Roma e dell'Italia in generale è che nessuno si prende mai le responsabilità perché c'è chi dice che è l'amministrazione precedente l'amministratore delegato precedente la dirigenza precedente e alla fine tutti fanno tutto e percepiscono stipendi stratosferici ma senza prendersi la responsabilità di nulla e quindi appunto dicevo come questa cosa è un po' la metafora perché in sostanza si dice all'autista caro autista anche se la vettura ha dei malfunzionamenti tu la devi portare uguale però poi se succede qualcosa ovviamente i rischi e soprattutto le responsabilità civili e penali vanno in capo all'autista perché è l'autista che poi porta l'autobus con la freccia non funzionante o con lo stop non funzionante e ovviamente con gravi ripercussioni per la sicurezza di passeggeri cittadini e utenti della strada perché io magari faccio il mio esempio personale con la mia bicicletta sto dietro l'autobus dove non funziona lo stop magari mi spalmo letteralmente come si dice dalle mie parti alla periferia est di Roma sul dietro dell'autobus e chiaramente poi ci va a rimettere l'autista perché era lui che portava il mezzo e lui che ha consentito a circolare anche con quei malfunzionamenti però sotto il ricatto dell'azienda che gli diceva guarda che se tu non lavori e non presti servizio anche se la tua vettura non è funzionante io ti faccio un richiamo disciplinare quindi ecco io penso sia qualcosa su cui su cui riflettere profondamente per far capire lo stato veramente di abbandono della città di Roma e dove tutti sono lasciati al tutti contro tutti letteralmente dove vige la regola del più forte del più prepotente faccio un altro piccolo esempio un'altra battaglia che sto strenuamente portando avanti da quando da quando sono qui una delle tante battaglie quella della doppia fila la doppia fila è un po' la metafora anche questa della nostra città perché io lascio la mia bella macchina dove mi pare e poi tanto non verrò mai multato e tanto poi le conseguenze le subiscono gli altri cittadini o anche torno a fare l'esempio della bistrattata anche lo stesso trasporto pubblico perché io mi ricordo feci un'interrogazione a novembre dove l'autobus 87 doveva deviare il percorso per colpa delle automobili parcheggiate in doppia fila io non so se ci rendiamo conto anche della gravità che è un qualcosa di un messaggio del genere perché le istituzioni che dovrebbero tutelare i cittadini virtuosi i cittadini che rispettano le regole invece questi cittadini si vedono sopraffatti dalla legge del più forte e soprattutto senza armi per poter rispondere perché magari chiaramente non riescono non si riesce a risolvere questo problema problema che va risolto agendo non sulle sugli effetti perché capisco che mettere un vigilo urbano per ogni automobile in doppia fila sarebbe impossibile ma bisognerebbe agire sulle cause disegnando le strade in un certo modo mettendo degli appositi degli appositi manufatti di arredo urbano per far sì che le auto non possano sostare in doppia fila perché anche questo è un altro problema della nostra città si agisce sempre sugli effetti e quasi mai sulle cause sentivo prima l'intervento del consigliere Alemanno che parlava della vigilanza dei campi rom aumentare la vigilanza dei campi rom agisce non sulle cause ma sugli effetti facciamo in modo che i campi rom non ci siano non che devo metterci mille diecimila centomila persone a guardia degli stessi quindi sulla doppia fila è la stessa cosa io non non sto dicendo agli amici i vigili urbani che vedo anche qui in aula che ci deve essere ogni vigile per ogni auto in doppia fila perché ovviamente sarebbe fisicamente impossibile perché la nostra è una città immensa ma anche qui agire sulle cause disegnare le strade in un certo modo dare un messaggio chiaro ai cittadini cara automobilista indisciplinato non puoi scavalcare chi sceglie di prendere l'autobus o chi sceglie di prendere il tram perché una delle mie tante interrogazioni che ho fatto riguardava l'area di piazza Vittorio dove le auto in doppia fila arrivano a bloccare il tram perché se l'autobus può deviare il suo percorso ma il tram purtroppo per leggi fisiche deve seguire un certo percorso sui binari e quindi se ha un'auto in doppia fila chiaramente non può continuare a derogare il servizio e quindi qui vengo anche ad un altro punto a quante idee a costo zero ci sarebbero per rilanciare la nostra città e per rilanciare la mobilità della nostra città mi avvicino a concludere anche se ho ancora tantissimi altri temi 5 minuti grazie grazie presidente per la sua disponibilità dicevo appunto a quante idee a costo zero un'altra battaglia che stiamo cercando di portare avanti estremamente in questi mesi è quella delle corsie preferenziali uno dei più grandi problemi di Atac oltre al fatto ovviamente della scarsità di risorse e di mezzi sia umani che fisici che autobus è il problema che noi ad Atac possiamo dare anche tutti i fondi regionali che vogliamo tutti i fondi europei che vogliamo assumere tutti gli autisti di questo mondo e acquistare tutti gli autobus di questo mondo ma se poi gli autobus sono fermi nel traffico saremo più o meno nella medesima situazione allora cosa si può fare per ovviare a questo problema e ripeto e ribadisco a costo zero quindi si potrebbe fare oggi pomeriggio appena usciamo appena usciamo da quest'aula aumentare in maniera esponenziale le corsie preferenziali considerate che Roma ha solamente 100 km di corsie preferenziali questo discorso si ricollega anche al discorso che faccio prima della doppia fila perché poi quelle poche corsie preferenziali sono anche adibite a parcheggio e quindi chiamiamo bene come la città di Roma non ha corsie preferenziali sono contento anche che sta arrivando l'assessore alla mobilità perché stavo toccando proprio questi temi di mobilità quindi arriva proprio in tempo e quindi dicevo aumentare in maniera esponenziale le corsie preferenziali aumentando in maniera esponenziale le corsie preferenziali la velocità commerciale di autobus e taxi che nella città di Roma è una delle più basse ed Europa siamo intorno ai 12-10 km orari in questo modo ATAC anche con gli stessi mezzi e con gli stessi autisti potrebbe fare un servizio nettamente migliore perché se l'autobus va più veloce ovviamente può fare più corse passa meno tempo fra una fermata e l'altra o tornando al discorso della manutenzione dello stress e delle condizioni di lavoro per gli autisti un conto è portare l'autobus nel traffico un conto è portare l'autobus sulla corsia preferenziale meno usura dei mezzi meno stress fisico ovviamente appunto per i lavoratori e quindi vediamo come un'idea banale e che è la normalità nel resto del mondo nel resto d'Italia a Roma non si capisce perché non si riesce a mettere in pratica ma un'idea del genere potrebbe apportare dei benefici immediati ripeto alle condizioni di lavoro al servizio offerto ai cittadini alla manutenzione perché se l'autobus ovviamente cammina nel traffico avrà uno stress meccanico maggiore inquinerà di più e quindi ovviamente la manutenzione di cui parlavamo all'inizio sarà peggiore brevemente concludo con il tema rifiuti che è un tema che a noi diciamo così sta molto a cuore ed è il motivo uno dei motivi principali per cui faremo una ferma opposizione a questo bilancio una strana opposizione a questo bilancio è l'aumento della tassa rifiuti aumento della tassa rifiuti e poi ne parleremo approfonditamente quando verranno discussi gli ordini del giorno che abbiamo presentato alle delibere 45 e 48 e quindi adesso è un discorso che accenno solamente e che poi approfondiremo nel corso di queste sedute di approvazione del bilancio la situazione dei rifiuti è drammatica io che appunto ho la fortuna di abitare nella periferia est di Roma ebbene non c'è una strada che non sia invasa dai rifiuti e questo è un problema non solo della periferia perché io venerdì scorso ho fotografato un secchione dei rifiuti al Pantheon quindi a uno dei luoghi più importanti non solo di Roma ma dell'umanità ebbene parlo dei piccoli secchi quelli non ovviamente per i rifiuti domestici ma per i rifiuti di chi mangia il gelato e butta la carta ebbene era stracolmo questo cestino allora anche qui io mi chiedo ma che immagine diamo al turista che viene dagli Stati Uniti che viene dalla Russia che viene dall'Australia che viene dalla Germania che immagine diamo se il luogo simbolo della città e il Pantheon non è anche quel luogo siamo in grado di gestire e di mantenere pulito e appunto in tutto questo in una situazione di disservizio poi per carità spezzo anche una lancia a favore dell'azienda e c'è anche tanta tanta inciviltà da parte dei cittadini romani che magari non ci pensano due volte prima di gettare qualcosa dall'automobile o di gettarla per strada ma sicuramente l'amministrazione comunale e ama non aiuta non aiuta in questo senso non aiuta e in tutto questo appunto pensa bene di aumentare per il decimo anno consecutivo la tariffa rifiuti in dieci anni ricordo l'aumento è stato del 70% lo ripeto anche qui per i cittadini che ci ascoltano via radio e via streaming cari cittadini a fronte di un servizio inesistente la vostra tariffa rifiuti che pagate ogni anno e sulla quale pagate anche l'IVA nonostante non si potrebbe fare lo ricordo dal mio manuale di diritto tributario visto che sono ancora relativamente fresco di università sulla quale noi paghiamo anche l'IVA ebbene questa tariffa rifiuti è aumentata in dieci anni del 70% e cosa ancora più grave è aumentata in maniera notevole anche per le piccole e medie imprese per il commercio per i piccoli negozi per quel commercio di vicinato che dovremmo tutelare a fronte invece dei megacentri commerciali che sono esplosi anche questi principalmente nell'era Veltroni tutto questo perché avviene e poi veramente concludo perché ama come tante altre vicende della città di Roma non ha una pianificazione noi adesso approveremo nella migliore delle ipotesi a fine luglio all'inizio di agosto il piano finanziario di Ama che è l'unico strumento di programmazione che programmazione è quella che viene votata dall'aula nella migliore delle ipotesi agosto nella peggiore delle ipotesi come è avvenuta lo scorso anno il 7 dicembre che senso ha approvare un piano finanziario il 7 dicembre è chiaro che quel piano finanziario si trasforma in un conto salato salatissimo che viene ovviamente sistematicamente rigirato sulla cittadinanza poi approfondendo questo discorso ho scoperto delle cose incredibili come che nella tariffa rifiuti era complesa la rimozione dei manifesti abusivi dei partiti quindi i partiti non solo sporcano la città con mezzi economici che tra l'altro sono incostituzionali perché la corte dei conti ha detto che i rimborsi elettorali sono incostituzionali ma oltre a sporcare la città spendendo soldi che hanno percepito indebitamente poi la ripulitura la scaricano giustamente sui cittadini che devono pagare anche la pulizia dei manifesti abusivi della città e quindi signori qui siamo quasi a mi viene in mente il paragone a un quadro di Magri qui siamo al surrealismo più puro all'impero delle luci al giorno e alla notte messi insieme quindi è un qualcosa veramente di incredibile pensiamo all'ultima operazione finanziaria di Ama la cessione del centro carni e quindi appunto Presidente io mi avvio a concludere questo lungo discorso ci sarebbero ancora tante tantissime cose da dire ma capisco che il tempo è poco e devono intervenire anche gli altri colleghi tanto avremo per fortuna occasione se non ci verranno cassati di parlare con i numerosi ordini del giorno mirati e nel merito che abbiamo depositato e quindi appunto io mi zittisco per un po' e lascio la parola alla mia collega grazie 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 a tutti